Il Giacchewa Arriva al limite, 1-2 Adriano, attenzione, va dentro, Adriano resiste Adriano, salta partiera, è il tiro, è il gol, 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 è il gol. L'imperatore! Palla per Arecoba, sta con il primo aperto, Adriano, 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 Sino, è gol, 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 è gol. Palla per Arecoba Buon intervento, Perond Recom, attenzione carica a sinistra, il tiro, è gol, 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 è il tiro, è solo quattro. Grazie per la visione Eccolo qua il lancio lungo, controlla con il petto Adriano, guarda dentro, al limite, carica al sinistro il tiro! E' Goal! E' Goal! E' Goal! E' Goal! E' Goal! E' Goal! L'Imperatore! Sì 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 Attenzione Adriano, rallenta Lo va a chiudere in due, cerca di passare Salta due uomini, guadagna al fondo, palla dentro Opa! Sì Cambia tutto sul fronte di sinistra per Dejan, controlla, carica al destro, il suo tiro, è gol, 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 è gol. È gol, 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 è Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.